Bella ragazzi Fox e benvenuti finalmente in questo nuovo video ragazzi l'attesa è finita Titanfall 2 è uscita oggi e sabato quando è uscito il video in realtà è venerdì 28 quindi è proprio il giorno stesso in cui è uscito il gioco lo sto finalmente provando per la prima volta insieme a voi e mi voglio subito affiondare ragazzi del multiplayer un regalo oh grazie per aiutarti ad avviare la terza parere prima che ti sapevo volere prima che ti credi ok va bene grazie per i crediti il difensore ciao difensore sei molto simpatico grazie mille del tuo regalo ragazzi ho atteso per molto tempo questo gioco finalmente è uscito non vedevo l'ora e non vedo l'ora anche di provarlo però mi sa che dovremmo farci il tutorial e invece no allora questo è col rampino lama impulsi rampino lama impulsi allora facciamoci uno col rampino uno con la lama impulsi e uno con l'occultamento perfetto fucile d'assalto lancia granate magnetiche perfetto poi rigenerazione rapida batteria rigenerazione rapida assolutamente stelle incendiarie granate esposive granate arco io metterei e poi abbiamo gli altri che magari poi li proveremo perfetto ok ragazzi siamo pronti giochiamo caccia alle taglie facciamo la caccia alle taglie che la modalità che hanno aggiunto qua in cui bisogna uccidere la gente prendersi big money andarle a depositare nelle banche che la modalità che la prima modalità che ho provato tra l'altro nella alfa tech test dove vediamo che è tutta sta gente qua con i cosi l'happy hour inizia da 20 ore cos'è qua non lo so mia premissima partita qua poi sul computer pure perché il test l'ho fatto sulla playstation 4 su una playstation 4 quindi stavo con il joystick e questo dovrebbe essere forse proprio la mappa che ho giocato al test e sottienita non mi piace questo albero è tutto più squadrato questo albero in alto a destra cioè al centro a destra eccoci elimino le forze della flotta remnant nell'area ma rinforzi flotta remnant in arrivo ok allora qua dobbiamo uccidere le ondate e gli altri giocatori allora vediamo un po' non muore ma io ho messo io ne ho messo uno a caso non l'ho modificato cioè mi è apparso direttamente devo cambiare il mio pilota spero che il volume non sia troppo alto no nel volume no ragazzi volumeno non so come si cambia il mio personaggio ok eccoci qua ci siamo non so come ci sono le cose non so niente si quelli già stanno col tagant però come si cambia la classe aiuto 1 2 f1 f2 f2 punto tantino invio tab backspace non lo so non lo so raga non lo so non lo so aiuto aiuto vorrei capire come si cambia alt spazio control maiuscolo esco 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 era esco voglio questo l'occultamento oh già me l'ha cambiato che bello allora camminiamo qua sulla parete no mi ha ucciso allora con il mouse centrale posso fare l'occultamento scappo 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 che sta questo uovo qua strano buono aiuto 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 è volato qualcosa mori non è un nemico aia da dietro ragazzi non ho fatto un'uccisione mi infatti 0 0 0 0 0 0 0 mamma mia quanto sto facendo pena abbiamo riscattato una taglia molto interessato oh sì 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 per me l'arma attivarmi si amplificate ah sì che mi pare si potenziavano le armi bene ma io ho dei soldi no mi sa che li ho persi aia no perché da dietro che cosa brutta dove sto spanato aiuto aia scappa eh ok la ce n'è uno ma io vado da dietro eccolo vieni qua bestia vieni qua bestia e mondia vieni qua aiuto aiuto no no tata no tata no perché ci mi piace 30 anni le banche sono chiuse come hai fatto va bene dai dammi il titan follo voglio il titan aia aia ah ok ok bene oh oh no e va bene sono beccato il titan in faccia però come faccio dai e lo spawn fa cagare proprio stiamo vincendo non sappiamo come ma anche gli arrivano le gravate al titan eeeh non voglio giocare adesso in su parte ragazzi io lancio una granata intanto così premi e non f ma e quale data hanno messo adesso non lo so mi sa che ha messo quello tipo no non mi piace questo aiuto come ci devo fare g ti lancio uno g non ho capito non ho capito non ho capito non ho capito per niente allora dovrei tirarmi queste armi semplificate semplificate ah semplificate le banche sono aperte da c'è un amico aiuto 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 dove stanno i miei enemies ma non lo colpisco proprio cioè non gli faccio niente con l'arma normale niente non gli faccio niente allora vediamo qui qua c'è uno due che bello più 20% siiii non sa di risultare ma vai di qua assist titan che bello ho fatto qualcosa di utile in questa partita una taglia in arrivo qua sono salito di livello aiuto c'è un titan qua ma dovrei eliminare io non so se c'ho dei dei ma leva il tab il favore è un amico sali non muore non muore raga non muore ok vediamo le armi amplificate ecco vai 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 sei morto come com'era eh perchè non F devo cambiare i tasti ok questo dovrebbe essere quello un po' più figo no? ma è sempre lo stesso scusate io l'avevo cambiato metti fuori il muro mamma mia è la parità che c'è andata il nemico io usavo la Q boom ma non mi piace questa arma posso cambiarla ok G cosa fai non lo so allora con la C faccio il fumo ok perfetto la G non ho capito sa ah volo che figata e non posso uscire aiuto a granare no no dove sei no che mira di me io non voglio questo aiuto mamma mia no raga no no datemi una banca ma come le banca sono chiuse proprio adesso perchè c'è pochi signori tra l'altro premi left uuuh che figata se ne occorre lo zoom tu ci mori tu ci mori mori c'è pure tu ti zoom la famiglia ecco ragazzi ho 240 dollari datemi qualcosa aiuto aiuto e io premo G no che devo premere Q Rasmaregan aiuto da qua da questo muori che ho lanciato cos'era sta roba ehh dovrei premere E mi hanno già distruttato ragazzi devo imparare molto a giocare a questo gioco è la mia premessa partita non mi dite niente per favore mi dispiace tanto che magari non è delle più divertenti ma usiamo una granata G no ho colpito qualcuno allora ragazzi mi serve una banca la B è una banca? non lo so aspetta l'ottima che mi si carica la la cosa qua come si chiama quella ok posso depositare? alla fine dell'ondata 805 dollari dai fatemi depositare una volta oh eccolo vai depositiamo ragazzi anche io eh ho vinto sono stato quello che ha messo il centesimo che ci ha fatto vincere ragazzi sono utile oh nuovo livello livello 2 perfetto ma non ho fatto già prima un nuovo livello perchè ho livellato prima l'arma forse ok epilogo con i miei piloti nei miti eccolo mamma mia mamma mia la mia prima kill la mia prima quanto ho fatto schifo quanto ci sono di addio eh ah no forse intende anche dei della gente strana diciamo della gente inutile intercettiamo la nuova l'astronave però non c'è il taille annuffa eh loro ce l'hanno invece vediamo come ce l'hanno guarda come mi si vogliono sparare ok hanno migliorato anche la pupola diciamo dall'alpha test test della playstation in effetti io se ti lancio una granata bomba oddio l'ho colpita non ci credo assuggiamola dai perchè ma ho finito le munizioni ho finito le munizioni e le notte della granata si ricarica è una figata assoluta questa un nuovo livello pilota troccato la nuova arma principale mi fa piacere ho tanti livelli due oggi cosa ah ecco avevo sbagliato a selezionare il taille devo selezionare questo ah io non mentre invece come pilota selezionerei questo va bene ragazzi per questo primo video ragazzi è tutto spero che vi sia piaciuto scusatemi se non è stata una partita molto molto divertente da guardare ma è la mia prima partita quindi capitemi non vedo l'ora di provare anche il single player quindi rimanete sintonizzati e aspettatevi tanti tanti video una bella serie walkthrough sul single player e quindi niente ne avevo credito al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti